Sono arrivate insieme sul Red Carpe dei Fashion Awards 2017 Valerie Morris e Naomi Campbell. Madre e figlia, elegantissime, entrambe vestite di nero, con i lunghi capelli sciolti e un trucco impeccabile sembravano piche altro sorelle. Per Valerie, 66 anni, dal fisico statuario, un completo giacca e pantaloni. La vantera nera, 47 anni, era in abito lungo con cinturino in vita. Per loro, sempre abbracciate, tanti flash, non capita spesso di vederle apparire insieme. Ma quando lo fanno lo spettacolo merita. Entrambe bellissime i Fashion Awards di Londra. Sembravano sorelle, elegante, nel suo completo nero, con tanto di preziosa collana a forma di serpente al collo. La signora Valerie ha messo in luce una silhouette e una pelle del viso vellutata da fare invidia. Ha molte VIP presenti all'evento. C'è poco da stupirsi se la figlia, sempre è più vicina ai 50 anni, sia sempre al top. Ma, come si dice, la mela non cade mai lontana dall'albero e qui ne abbiamo la conferma. Altro su MSN. Il ritorno di Naomi Campbell in un video girato a Tokyo. Di La Repubblica. Sponsorizzato. Regali di Natale. Xbox One S con un gioco a scelta a partire da 249. Acquista qui maggiore maggiore.